Alla vigilia dell'appuntamento elettorale francese in aprile maggio poi di quello tedesco in settembre e prima o poi anche di quello italiano, c'è in Europa un dibattito molto forte su quale deve essere il futuro del percorso istituzionale dell'Unione Europea, come fare a dare delle risposte a chi chiede più Europa o quantomeno un'Europa che possa risolvere alcuni dei problemi principali del nostro continente, ovviamente la sicurezza interna ed esterna e ovviamente anche il tema della crescita economica e dell'occupazione. Da questo punto di vista alcune delle proposte anche avanzate recentemente sui giornali in Italia in questi giorni chiamano a un ruolo più diretto dei cittadini nell'elezione di alcune figure chiave che possano in qualche modo legittimare maggiormente il percorso di integrazione europea. Tuttavia questa risposta evidentemente ha dei problemi da un punto di vista istituzionale rispetto al quadro esistente delle regole che sono di difficile risoluzione in un orizzonte di breve periodo. In particolare l'Unione Europea nasce sul principio del cosiddetto delle competenze di attribuzione, l'Unione Europea è codificata nei trattati come personalità giuridica che serve a risolvere problemi che in ultima analisi discendono dalla sovranità degli stati membri. Quindi l'Unione Europea esiste perché gli stati membri vogliono che l'Unione Europea stessa possa fare alcune cose. Da questo punto di vista superare con l'elezione diretta evidentemente gli stati membri stessi risulterebbe complicato o comunque richiederebbe giuridicamente un processo di cambio dei trattati che avrebbe un orizzonte di tempo troppo lungo rispetto all'immediatezza dei problemi che l'Europa oggi deve risolvere. La soluzione quindi qual è? Due soluzioni. La prima è quella che si sta già sperimentando con l'elezione ultima del Presidente della Commissione Europea. Il Presidente della Commissione Europea viene proposto dai partiti politici europei alla vigilia delle elezioni europee e quindi sarà il risultato elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo determinare il colore politico del Presidente della Commissione Europea e poi della sua squadra. Questo è un primo passaggio di democrazia rappresentativa ma molto più diretta rispetto a quello che avevamo in passato che si è portato avanti nel quadro delle attuali regole istituzionali consentirebbe un riavvicinamento delle istituzioni ai cittadini. Il secondo passaggio evidentemente è quello che si è iniziato con il vertice di Roma dello scorso marzo. Lì gli stati membri hanno esplicitamente detto che è possibile per alcuni di loro andare avanti in maniera più stretta sul fronte di alcune politiche, la cosiddetta Europa a più velocità e quindi è possibile per un gruppo ristretto di stati fare passi più avanti sul percorso dell'integrazione. Da questo punto di vista niente vieta che alcune delle istituzioni di questi nuovi meccanismi per esempio dal punto di vista dell'immigrazione o della sicurezza interna non possano dotarsi di figure di rappresentanza che possano in qualche modo vedere coinvolti in maniera più diretta ed esplicita i parlamenti nazionali. Per cui direi che al momento sicuramente resta valida l'esigenza di garantire un maggior riavvicinamento dei cittadini della base elettorale al vertice delle decisioni comunitarie ma il percorso istituzionale dovendo dare risposta nel breve periodo non può che passare dalle istituzioni esistenti.